È stato aperto proprio in occasione a causa della crisi economica il centro di ascolto straordinario della Guizza che aiuta sia italiani che immigrati che si trovano in una situazione di difficoltà. È la prima esperienza del genere a Padova nata a giugno di quest'anno per rispondere ai problemi contingenti del territorio. Da allora almeno 200 persone hanno usufruito del servizio aperto tre giorni alla settimana e gestito da una ventina di operatori della Caritas. Il 90% diciamo oggi come oggi è di immigrati, ecco un 10% sono italiani. E le richieste quali sono? Le richieste, beh ogni caso, cioè ogni persona è un caso a sé, non è che possiamo catalogarlo e chiuderlo dentro. Bisogna entrare nello specifico, quindi generalmente è perché hanno perso il posto di lavoro. Ecco questo deve essere stato perso dopo il primo di ottobre del 2008. In questo caso allora procediamo appunto dando loro un primo elenco dove sono scritti tutti quanti i documenti che devono presentare. E poi dopo, durante il colloquio appunto, entrando nello specifico, gli chiediamo qual è la situazione economico-finanziaria della famiglia. Vista la grande richiesta da parte degli utenti, a volte raccontano i volontari e se arrivate a rispondere ad una cinquantina di persone in due ore, sono stati aperti sul modello della guizza quattro sportelli gestiti dalle acli nella zona dell'Arcella. Al centro di ascolto della guizza non si accede su prenotazione. I volontari cercano di aiutare tutti secondo l'ordine di arrivo, nelle giornate di lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e il martedì e il giovedì mattina dalle 9 alle 11, negli accoglienti ambienti del patronato parrocchiale, dove convive anche un ambulatorio sanitario sempre gratuito, il centro anziani e lo spazio di animazione dei gruppi parrocchiali. C'è stato chiesto dalla Caritas diocesana per andare incontro ad una esigenza temporanea che si spera finisca nel giro di qualche mese, io ho qualche dubbio, data la situazione di crisi del lavoro.